Domani noi iniziamo i casting del film che gireremo quest'estate a Borgo Valbelluna, come molti di voi sapranno, che si chiama Alcol Test. Un nuovo progetto cinematografico, una nuova sfida all'orizzonte per il regista bellunese Stefano Usardi. In attesa del via delle vere e proprie riprese a partire dal 15 luglio a Lentiaie ed Intorni, sabato 30 marzo dalle 14.30 è in programma una giornata di casting volta a scoprire possibili nuovi talenti. Il protagonista sarà Drupi, il cantautore famoso negli anni 70 ma ancora attualissimo. Domani cerchiamo alcune figure che ci mancano, ovviamente tutte le figurazioni speciali perché vogliamo avere gente del luogo e poi cerchiamo in particolare un ragazzo con un'età scenica di 20 anni e una signora con un'età scenica tra i 55 e i 65 anni. Stiamo al centro 3S dalle 14.30 fino alle 19, insomma non serve iscriversi, basta venire e quindi ci saranno delle prove da superare. Un lungometraggio volto ad esaltare le peculiarità del territorio stesso senza tralasciare l'attenzione alla sfera sociale. È la storia di un cantautore appunto che vive arenato in una... insomma non riesce a staccarsi dalla Val Belluna però al tempo stesso vorrebbe riuscire ad andare via. E poi ci sono mille vicende legate al territorio quindi non so la leggenda del Mazzariolo ad esempio e poi Taglialegna, la gente del luogo, insomma la Proloco, gli Alpini. C'è un po' la questione dell'alcolismo, poi c'è la questione dei rapporti tra le generazioni che è un po' un must dei miei film. I testi preparatori per il lungometraggio Alcol Test sono consultabili sulla pagina Facebook di FIFILM Production. È un'altra produzione FIFILM di Caterina Francavilla che noi ringraziamo sempre e quindi sì, siamo riusciti a rimettere insieme un budget per partire con questo progetto e adesso gireremo questo film che insomma premette bene.